Ai tecnici, agli aici, a Raffaele Cimino, Dossazzi, Tanto di Virgilio, grazie alla piazza, piazza Mercato, grazie al comune che ci ha sostenuto soprattutto in questo periodo faremo parte del progetto Napoli Città, della musica e grazie soprattutto a voi che siete l'anima portante della nostra nata a Mura. Aspetta Carlo, devo ringraziare anche il presidente della seconda pubblicità, Roberto Marino, e il consigliere Giuseppe Brandolini. Grande Brandolini, vai! Carlo, ma grazie soprattutto a te che ci hai messo tutti quanti insieme, che non è facile. Vabbè, però visto che due serate veramente lo spirito era proprio quello di stare insieme, di stare bene e di lasciarsi andare. Ci siamo riusciti, grazie. Loro mi hanno chiesto di fare un pezzo e ci prenderò. Un bel'altro, mi hanno chiesto di fare un pezzo e ci prenderò. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.